Davanti alle nostre telecamere per CRM 2016 il dottor Maurizio Brigante, primario di nefrologia a Cardarelli di Campobasso. CRM è il convegno nel quale approfondire tutte le tematiche legate alla patologia del cuore, ma non solo, ci sono anche tante altre patologie che vanno ad inserirsi in quelle propriamente del cuore, come ad esempio quella che riguarderà l'intervento di domani del dottore. Certo, parleremo di quello che è lo scompenso anche a livello renale e quindi l'alterazione della funzionalità renale in corso di uno scompenso cardiaco con gestizio. Quali sono i presidi terapeutici, quali sono le possibili tecniche di terapia sostitutiva che possono consentirci di riequilibrare un paziente cardiacamente scompensato, ma che presenta anche alterazioni della funzionalità renale.